Siamo con l'assessore allo sport Filippo Sansone. Assessore allo sport oggi ha vinto indipendentemente dal risultato, ha vinto la solidarietà e ha vinto anche Scafati. Scafati quando fa queste manifestazioni vuole sempre vincere. Grazie alla collaborazione della Nazionale Calcio TV e grazie alla collaborazione soprattutto di tutti noi, l'amministrazione comunale, il sindaco, noi assessori e grazie soprattutto a questo splendido pubblico che ci ha onorato della loro presenza. Speriamo che qualcuno è venuto anche per vedere noi, non solo la Nazionale Calcio TV, però oggi è bellissima, una giornata purtroppo ventosa con un po' di pioggia, però ci stiamo divertendo e ci stiamo facendo divertire tutti. Quindi diciamo che il cuore batte anche perché l'iniziativa è a sfondo benefico? Sicuramente, noi abbiamo organizzato questa manifestazione per fare beneficenza, quello che tutti ogni tanto fanno nel piccolo, noi oggi l'abbiamo voluto fare nel grande. Però, torno a ripetere, abbiamo vinto tutti, ha vinto Scafati, ha vinto l'associazione Ascanio Calaccio, ha vinto l'ospedale di Scafati, ha vinto tutta la città di Scafati. Grazie.